Siamo con Daniel Masi, tecnico degli allievi del Mazzara Calcio. Allora Daniel, uno stop a Tommaso Natale che si può trattare di un incidente di percorso, visto comunque l'ottimo campionato che i tuoi ragazzi stanno conducendo fino adesso? Sì, è stato un incidente di percorso previsto, perché giustamente durante un'annata dura come quella che si prospettava per un campionato allievi regionali che era veramente impegnativo. Giustamente questi ragazzi quest'anno hanno dovuto affrontare due competizioni, perché hanno dovuto fare non solo il loro campionato allievi, ma hanno dovuto contribuire in maniera importante e decisiva al raggiungimento del primo posto della Juniors, con 5-6 ragazzi costantemente convocati da Mr. Terranova nella Juniors e con impeduglia dato fortunatamente e meritatamente alla prima squadra, un ragazzo 97 che potrebbe fare la differenza negli allievi regionali, che gioca a titolare in eccellenza ed è un punto principale per la rappresentativa allievi regionali siciliana. Io del mio lavoro sono soddisfatto e contento, certamente si avrebbe potuto fare molto meglio a livello di campionato allievi, perché con la squadra che avevo costruito in estate io dico che potevamo tranquillamente arrivare tra le prime tre, tra le prime quattro del campionato. Certamente poi in un anno, a mio modo di vedere, ragazzi allievi non possono fare 50 partite, perché sono 25 del campionato allievi e 25 del campionato Juniors, io credo che non li potrebbero neanche fare calciatori che giocano in Serie A, quindi professionisti, figuriamoci dei ragazzini di 17 anni. Parliamo del proseguo del campionato, prossima partita contro la Juvenilia, che partita gli aspetti? Io con la Juvenilia mi aspetto un solo risultato, che è quello della vittoria. Per noi sarà fondamentale vincere per consolidare la posizione play-off, che è quella dell'ottavo posto, perché oramai credo che più di lì purtroppo non possiamo andare, però vincendo sabato riusciamo a raggiungere questa benedetta zona play-off e poi ce la giochiamo con la prima del girone, a partita secca. Speriamo che avrò tutti i ragazzi a disposizione, se sarà possibile, allora lì sì che poi ne vedremo delle belle. Parlavi anche della condizione, riguardo alla condizione dei tuoi giocatori, sono tutti recuperati o qualcuno magari ancora in deficit di condizione fisica? No, speriamo di recuperare tutti. Credo che sia impossibile, perché qualche ragazzo ha qualche serio infortunio, quindi credo che non lo recupereremo, però penso anche che non andremo a giocare in dieci. Cosa pesa di più? La sfortunata sconfitta di San Giovanni Gemini dovuta anche ad una vigilia sfortunata per diverse situazioni, oppure al fatto che la vittoria del Profavara fa sì che non dipenda più soltanto da voi, il piazzamento in un posto al sole? Diciamo che è tutto un insieme, che purtroppo per adesso la sfortuna non gira dalla nostra parte. Sono situazioni che ogni giorno ne abbiamo sempre una, tra gli acciacchi, poi qualche situazione di influenza, purtroppo non ci sta permettendo di essere al 100% tutta la rosa. E quindi purtroppo questi sono i risultati che non ci fanno abbattere. Forse visto quello che è successo nel finale, con te che hai rischiato di segnare nel finale a San Giovanni Gemini, così come tante altre occasioni, forse la fortuna è un pochettino in debito con te in questo finale di stagione? Purtroppo la palla non vuole entrare, infatti anche al novantesimo minuto non so come il portiere abbia preso quella palla. Però come questa, come altre occasioni che abbiamo avuto, purtroppo siamo pochicinici davanti po' sotto porta. Niente, purtroppo anche la fortuna non gira neanche dalla nostra parte. Ci vorrebbe che questa ruota, prima o poi, spero subito che cambi direzione, averla vinta, tra virgolette. Folgore e poi Rocca di Caprileone, due avversari che scriveranno per voi la storia di questo finale di stagione. Si spera poter raggiungere per il Mazzara la salvezza diretta, ma se così non sarà, che tipo di play-out prevedi? Intanto ci andiamo a giocare queste due partite che sono le partite più importanti di tutto il campionato. Poi, in base ai risultati che andiamo ad affrontare, tireremo le somme e vediamo un po' come è la situazione. Grazie a tutti.